Salve a tutti, riprendiamo a studiare insieme le rocce, adesso cominciamo a studiare le rocce vulcaniche. Allora, le rocce vulcaniche derivano dal raffreddamento di una lava. La lava deriva dal magma che fuoriuscendo in superficie si raffredda, ma soprattutto si degassa. Cioè la lava fuoriuscendo in superficie, non essendo più compressa dal peso delle rocce sovrastanti come quando era sotto terra, perde tutti i gas. Più o meno come quando si lascia una bottiglia di una bibita gasata, stappata, che dopo un po' perde i gas. Così fa anche la lava. Quindi la lava non è altro che un magma che venendo in superficie raffredda e perde i gas. Se vi ricordate il magma per definizione era composto da una parte liquida, cristalli e gas disciolti. Quindi la lava, perdendo i gas, avrà una parte liquida che solidifica e può diventare, diventa in parte microcristallina e in parte vetrosa, perché raffredda rapidamente. Invece i cristalli che erano già presenti nel magma, quelli lì rimangono, non vengono distrutti. Quindi, alla fine, quando una lava si raffredda, che cosa contiene? Contiene pochi cristalli visibili, che altro non erano, che i cristalli che conteneva il magma di partenza, che si sono formati mentre risaliva o mentre la lava sostava nella camera magmatica. Poi, molti cristalli piccolissimi e vetro, che derivano dal raffreddamento della parte liquida del magma. E poi possono contenere delle vescicole di gas. Le vescicole di gas che altro non sono che il frutto della degassazione del magma. Il magma, ricordatevi, che non può contenere bollicine di gas. Il gas nel magma è disciolto, quindi non forma bolle. Se in una roccia magmatica troviamo vescicole tonde, bollicine, quella sicuramente si è raffreddata in superficie. E ora andiamo a raccontare la storia di un vulcano, di una eruzione vulcanica. Prima di tutto vi ricordo che schematicamente questa rappresenta una sezione della crosta terrestre. Si vede la crosta oceanica con sopra l'acqua del mare. La crosta oceanica è indicata con questo motivo a colonne. La crosta oceanica è spessa a 7 chilometri. Poi abbiamo la crosta continentale, che è indicata con questo motivo a crocette, ed è spessa a 45 chilometri. Sotto abbiamo il mantello, che è fatto da rocce parzialmente fuse, quindi in parte è solido e in parte è fuso. Il mantello è il luogo di origine di molti dei magmi e delle lave che alimentano i nostri vulcani. Quindi partiamo dall'inizio. Il magma risale dal mantello, sosta dentro la crosta terrestre per un certo tempo e può avere due destini. Può rimanere nella crosta terrestre finché non raffredda completamente, è solidifica e dà origine alle rocce magmatiche intrusive. Oppure, dopo un po' che sosta sotto la crosta, comincia a raffreddarsi, a liberare del gas, comincia a bollire, per così dire, e quando il magma sotto la crosta comincia a degassare, a sprigionare del gas in modo tumultuoso, produce dei microterremoti particolari. A un certo punto comincia a sprigionare talmente tanto gas che la pressione della camera magmatica aumenta a dismisura, magari non c'è abbastanza crosta terrestre al di sopra per compensare questa pressione e alla fine avviene un'eruzione, cioè il vulcano emette della lava sotto forma di colate e la successione di queste colate produce quello che noi chiamiamo edificio vulcanico, il classico cono. Ora, un cono di lava, un cono vulcanico, un edificio vulcanico, è fatto da una successione di eruzioni vulcaniche. La lava fuoriesce e genera nuovi spessori di lava. Quelle più in basso saranno le prime, le più antiche, poi avremo le seconde, le terze, le quarte, le quinte, le seste. Quindi le parti basali del cono vulcanico saranno rappresentate dalle lave più antiche, dalle eruzioni più antiche. Invece le parti superiori sono fatte dalle eruzioni più recenti. Ora, se la lava fuoriesce come un liquido e cola verso il basso fermandosi solo quando si raffredda, abbiamo appunto delle rocce effusive. Le rocce vulcaniche effusive ho lave. Le lave più diffuse sono i basalti, le andesiti e le rioliti. I basalti sono ricchi di ferro e magnesio. Le rioliti sono povere di ferro e magnesio, ricche in silice, e quindi possiamo anche scrivercelo, ricche di ferro e magnesio, Mg, Fe, Mg. Le rioliti sono ricche di SiO2, di silice, invece le andesiti sono una via di mezzo, contengono un po' di ferro e magnesio, ma anche un po' di silice. Queste rocce vengono appunto chiamate rocce vulcaniche effusive. Tipicamente una lava è fatta da una parte liquida che raffredda rapidamente formando o cristalli piccoli o vetro, poi i cristalli che si erano formati nella camera magmatica e bollicine di gas. Ok? Nel prossimo video andremo a vedere le rocce magmatiche eruttive o esplosive, cioè quelle frutto di eruzioni esplosive. Bene, riprendiamo a studiare le nostre rocce magmatiche, le rocce in particolare, le rocce vulcaniche. Abbiamo visto poco fa le rocce vulcaniche effusive, che sono rocce che si formano quando la lava scorre rapidamente all'esterno senza lanciare per aria la pilli, come un fiume di roccia fusa. Le lave sono relativamente poco pericolose. Perché? Perché anche quando vanno veloci vanno sempre più lente di un uomo che corre o di un'automobile. Di solito le eruzioni sono precedute da sintomi chiari di un'eruzione imminente, come per esempio attività stromboliana, di fontane di lava, eccetera. E solo dopo un certo periodo di queste attività si ha la vera e propria colata. Invece le eruzioni vulcaniche esplosive di solito danno pochissimi sintomi. I sintomi principali di un'eruzione sono dei sismi che sono dovuti a ribollire del magma che sta degassando nella camera magmatica. Qui abbiamo disegnato appunto delle bollicine. Allora, cosa succede quando si ha un'eruzione esplosiva? Io ho la crosta continentale, il mio edificio vulcanico prodotto dalle eruzioni precedenti, il cammino vulcanico che è tutto ostruito di blocchi delle eruzioni precedenti. In cima avrò una depressione che è una caldera. E cosa sta succedendo al di sotto nella camera magmatica? Il magma si sta raffreddando, sta perdendo gas, la pressione di questo gas spinge contro le pareti della mia camera magmatica in tutte le direzioni. soltanto che il vulcano non può esplodere verso il basso perché c'è il pianeta Terra verso il basso. La parte più debole della camera magmatica è la parte superiore. Allora, la lava continua a raffreddarsi ma non si solidifica mai del tutto. Il gas continua a essere prodotto e la pressione aumenta. Ci sarà un periodo in cui questo gas si infila nelle crepe e poco prima dell'eruzione si vedranno delle attività fumaroliche, degli sbuffi di vapore, ma niente di più. Si potrebbe sollevare leggermente la crosta terrestre per effetto della pressione. Se il vulcano è vicino al mare, la crosta terrestre si solleva, il mare può retrocedere. Mettiamo che il mare prima sia qui, poi sarà qui, poi sarà qui perché la crosta terrestre si gonfia, ma niente di più. La gente poi è ottimista, queste cose non ci bada, anzi, sono fenomeni curiosi, li guarda con piacere. In realtà è una bomba dolorogeria perché cosa impedisce in questo momento al vulcano di eruttare? Il peso della roccia che sovrasta la camera magmatica. Quando la pressione del magma diventa superiore alla pressione esercitata dalle rocce sovrastanti, tutta questa roba viene scagliata per aria, questa roba esplode, viene tirata per aria, il vulcano irutta, la camera magmatica si espande verso l'alto, quindi risale lungo il condotto e tutta questa roba che c'era dentro e parte dell'edificio vulcanico vengono lanciati per aria. Allora, da che cosa era fatto il magma contenuto nella camera magmatica? Da una parte liquida che stava degassando con le bolle, questa parte viene lanciata a formare dei goccioloni di lava fusa con il gas che si espande, quindi pieno di bolle. Questi goccioloni di lava fusa con il gas che si espande prenderanno quando cadranno il nome di pomici se sono chiare, scorie se sono scure, nere, rosse, marroni, grigio scure, ok? Ma la lava che cos'altro con il magma cos'altro conteneva? Conteneva dei cristalli, quindi verranno lanciati per aria anche dei cristalli di che colori li ho fatti, violetti quindi tutto quello che era contenuto nella camera magmatica viene lanciato, vengono lanciati appunto i goccioloni di lava vescicolati che prenderanno una volta raffreddati come abbiamo già detto prenderanno il nome di pomici o scorie verranno lanciati i cristalli di precoce raffreddamento e poi i pezzi dell'edificio vulcanico questi non vanno dimenticati perché pezzi enormi di crosta terrestre verranno lanciati per aria ok? Possiamo disegnarli di un grigio scuro ok? quindi e frammenti di rocce quindi cosa verrà lanciato per aria durante un'eruzione esplosiva le pomici e le scorie i cristalli e i pezzi del vulcano che vengono lanciati per aria che chiamiamo frammenti di rocce di rocce allora durante un'eruzione esplosiva vengono lanciati per aria volumi di tutte queste cose enormi cioè di pomici di cristalli e di frammenti di rocce ne vengono lanciati per aria si parla di chilometri cubi ora voi pensate che 30.000 anni fa quando c'è stata l'eruzione esplosiva del monte Somma esplosa a mezza montagna e si sono formati i campi di fregrei sono stati lanciati per aria 80 km cubici di pomici cristalli e frammenti di rocce e quando l'eruzione è finita è rimasta una caldera una depressione al posto del vulcano di 60 km di diametro sopra questa caldera le eruzioni successivi hanno fatto il monte Somma nel 77 avanti Cristo il monte Somma è riesploso e ha sepolto Ercolano e Pompei formando una seconda caldera e poi dentro la caldera del monte Somma si è formato quello che è l'attuale Vesuvio che tutti conosciamo allora cosa succede a tutta questa roba quindi gas incandescenti pomici cristalli e frammenti di rocce cosa succede a tutta questa roba quando vengono lanciati per aria formano una nube ardente a forma di fungo atomico o come diceva Plinio il vecchio a forma di di pino ah ecco una cosa che mi stavo dimenticando quando le pomici si sbricciolano si sbricciolano in milioni di particelle di vetro affilatissime chiamate ceneri chiaramente essendo pezzi di materia liquida che si è raffreddata bruscamente non è fatta da cristalli è fatta da schegge di vetro e questi frammenti noi le chiamiamo in italiano ceneri ceneri vulcaniche e in inglese shards cocci perché derivano dalla frantumazione delle pomici ok allora quindi siamo arrivati al punto che il vulcano eruttato ha lanciato per aria una nube ardente fatta di scorie pomici cristalli frammenti litici e ceneri questa nube ardente ha due destini o tutta questa roba ricade come una pioggia su tutta la zona dopo che si è già praticamente raffreddata e quindi avremo noi una sorta di nevicata di ceneri di cristalli e di pomici di frammenti litici allora siccome questa roba accade come una nevicata non si comporta come un liquido non riempie gli avvandamenti non si comporta come una lava che riempie le depressioni che forma laghi di lava o cose del genere no si comporta come una neve quindi se c'è un oggetto lo ammantella una macchina l'ammantella un'altra casa l'ammantella come una nevicata queste queste coltri fatte dalla nube ardente che cade già fredda costituiti da ceneri cristalli pomici e frammenti di rocce prendono il nome di perché cadono come una nevicata ok le pomici cristalli i frammenti di rocce chiaramente più ci allontaniamo dal vulcano e più queste sostanze saranno piccole lontani domineranno le ceneri vicino domineranno ci saranno più frammenti di rocce e a una distanza intermedia ci saranno molti cristalli e pomici le pomici essendo fatte di vetro vescicolato pieni di bolle avendo bassa densità vengono trasportati dal vento molto lontano invece i frammenti di rocce cadono più vicino al luogo dell'eruzione come si chiamano questi depositi piroclastici fatti da piroclasti si chiamano tuffi o piroclastiti di caduta tuffi o piroclastiti di caduta ora chiaramente questo tipo di eruzioni sono pericolosissime e nell'arco della storia umana hanno ucciso migliaia e migliaia di persone attualmente il vulcano più a rischio ad eruzioni esplosive è il Vesuvio e nella zona tutto intorno al Vesuvio vivono una cosa come sei milioni di persone ora tenendo conto che questo tipo di eruzioni non danno che pochi giorni o poche ore di preavviso evacuare sei milioni di persone è improbabile e siccome distruggono tutto e ricoprono tutto con una coltre che ha come minimo una temperatura di 600 gradi ma può arrivare anche a 900 gradi potete immaginarvi del disastro che possono fare e quante vittime possono fare queste eruzioni vulcaniche se la nube ardente cade fredda sotto i 600 gradi abbiamo i tuffi o piroclastiti di caduta se invece la nube ardente cade molto calda sui 900 gradi quindi qui abbiamo 600 gradi di temperatura se la nube ardente collassa cade più calda sui 900 gradi centigradi è ancora molto liquida scende come un flusso di gas e di lava che poi in realtà è fatta prevalentemente di gas incandescente con goccioloni ancora liquidi di lava cosa farà? ricopre tutti gli avvallamenti riempie gli avvallamenti quindi non si comporta più come una neve le pomici ancora plastiche si schiacciano e prendono il nome di fiamme è il nome che viene dato poi ci saranno chiaramente sempre i frammenti litici e i cristalli allora quindi se da una eruzione esplosiva cade una nube ardente fredda tuffi piroclastiti di caduta mantellano tutti gli oggetti come una coltre di neve invece se la nube ardente cade molto calda fluida riempie gli avvallamenti come un liquido e prende il nome di piroclastiti di flusso ignimbrite ignimbrite voi immaginatevi che tutto il nord sardegna nel miocene 30 milioni di anni fa era caratterizzato da un'intensa attività eruttiva di tipo ignimbritico quindi piroclastiti sia di flusso ma anche di caduta ora per fortuna la sardegna è considerata non vulcanica i vulcani della sardegna sono tutti spenti non è che sono inattivi sono proprio vulcani spenti bene abbiamo concluso le rocce magmatiche e nel prossimo video nel video numero 6 cominceremo ad analizzare le rocce sedimentarie